Fino al 18 settembre la Galleria Borghese presenta Tiziano, Dialoghi di Natura e Amore, una mostra nata in occasione del prestito di Ninfa e Pastore, un'opera realizzata dal maestro in tarda età intorno al 1565, concessa dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. È possibile ammirare l'opera nella sala 20 del museo, dove sono già esposti due capolavori di Tiziano, Amor Sacro e Amor Profano e Venere che Benda Amore. Ninfa e Pastore è stata collocata di fronte alle tre età, replica di Sassoferrato del dipinto di Tiziano. La curatrice Maria Giovanna Sarti spiega. È naturale che questo incontro avvenga con i nostri Tiziano, attivando quei dialoghi intorno ai temi praticati da Tiziano dall'inizio della sua attività fino all'estremo, insomma, veramente agli ultimissimi anni, che sono i temi di natura, di amore, cambiano naturalmente nel tempo, ma Tiziano è sempre pronto ad offrirci questi temi ricorrenti, ecco, in diverse declinazioni. Grazie a tutti.